Sì, grazie Presidente, arriviamo alla discussione di questa modifica del regolamento taxi, un percorso lungo, complesso, ma insomma finalmente ci troviamo a discutere in un'assemblea capitolina e ovviamente mi auguro ad approvarlo in tempi anche abbastanza brevi. E' stato un lavoro molto lungo, ringrazio anche in questa sede pubblicamente la Consigliere Bernabè che veramente ha condotto con pazienza e precisione insomma le tante istanze, ha raccolto le tante istanze che sono arrivate, le modifiche, anche insomma successivamente al deposito e così via. E' un regolamento questo importante perché fissa alcuni aspetti secondo me significativi sia per l'utenza che per la categoria, per i tassisti. Tutte le novità principali che andiamo ad introdurre, che già sono state illustrate dalla collega Bernabè, sicuramente è significativa la revisione dell'apparato sanzionatorio che dà delle certezze in più a tutti. Quindi non è assolutamente uno scopo punitivo ma anzi cercare di semplificare, rendere più chiari degli aspetti che quindi questo ripeto va a tutela sia della categoria perché penso che chi non si comporta diciamo così correttamente nell'interesse di tutti e quindi far sì che ci siano delle norme chiare ed efficaci per poter eventualmente intervire. Quindi non sono solamente finalità punitive ma delle regole più chiare dove tutti, a beneficio di tutti. L'obbligo del post, della carta di credito molto importante anche in questa fase, le doppie guide, l'obbligo del taxi web che si diceva che è una piattaforma volta semplicemente a semplificare la vita dei tassisti. Evitando spostamenti, evitando spreco di carta, ancora più importante nella situazione in cui stiamo evitando e in cui chiaramente gli spostamenti spesso sono ridotti e quindi meglio consegnare, meglio adempire a determinate formalità attraverso una piattaforma, un sito internet piuttosto che recarsi fisicamente a degli sportelli. Questo ovviamente consente anche a Roma Servizi per la mobilità che poi gestisce determinati servizi di ottimizzare il personale. E appunto, menzionando Roma Servizi per la mobilità, come diceva la consigliera Bernabè, ma mi voglio unire anche io ai ringraziamenti. È stato un bel lavoro di squadra che ha visto sicuramente in prima fila Dipartimento, Roma Servizi per la mobilità, Polizia Locale, dove veramente ho conosciuto tante persone competenti e che con tanta voglia di fare hanno dato il proprio contributo sull'aspetto sanzionatorio che è veramente complesso conciliare tutte le norme nazionali e di altra gerarchia. Quindi insomma, veramente un lavoro prezioso. I tanti tassisti che hanno contribuito, che abbiamo ascoltato anche nelle tante sedute di commissione, mi viene chiaramente, faccio un discorso unico anche con la precedente proposta che abbiamo depositato e poi ritirato, gli assessorati, in particolare l'assessore Meneo e il suo staff ha fatto un ottimo lavoro all'inizio per avviare questo percorso di modifica. E quindi insomma, tutti hanno dato il proprio contributo nell'interesse della collettiva. È chiaro che, poi immagino sarà anche un pochino questo il dibattito anche con gli altri gruppi, è chiaro che la categoria oggi versa in una situazione molto complicata e non è certo questo regolamento che risolve tutti i problemi. Anzi, però, come dicevo prima, sicuramente chiarire alcuni aspetti avvicina l'utenza e gli consente di poter usufruire del servizio in maniera più efficace. Però, dicevo, sicuramente questo regolamento non risolve tutti i problemi, non sarebbe neanche lo strumento adatto poi a farlo, anche volendo. Si accennava prima al discorso della revisione delle tariffe, sicuramente è un aspetto, so che su questo l'assessore sta già lavorando, ma è sicuramente un aspetto importante. Poi, la revisione delle tariffe, anche qui lo voglio sottolineare, non significa automaticamente aumento delle tariffe a vantaggio di qualcuno o a svantaggio di qualcun altro, ma anche qui significa fare chiarezza. Secondo me è importante, a tutela, ancora qui lo ribadisco ancora una volta, sia di chi guida il tassi, che di chi vuole prenderlo, che alcune fattispecie siano chiare per tutti. Per esempio, nella revisione tariffaria ho proposto più volte delle tariffe fisse dall'aeroporto di Fiumicino ai quartieri limitrofi. Quello sarebbe un aspetto chiaro che semplificherebbe la vita sia di chi aspetta il taxi che di chi deve portarlo. Ho fatto un esempio di tanti, quindi non significa necessariamente aumenti, ma disciplinare alcune fattispecie che oggi non lo sono. Questo sicuramente sarà un lavoro importante da fare. Poi l'abbiamo fatto negli scorsi mesi, anche in sede di commissione, abbiamo valutato tante proposte per quanto riguarda il taxi condiviso, anche se chiaramente questo non è il momento migliore per ipotesi di tavola natura, ma sicuramente in prospettiva potrà essere un aspetto importante sulla scia anche di quello che ha fatto Milano. Abbiamo fatto un lavoro anche qui, devo dire, di rilievo per quanto riguarda il tema dei posteggi, sia con nuove introduzioni, ma anche più di recente abbiamo accolto una importante istanza da parte di diverse associazioni di categorie e sindacati per quanto riguarda posteggi nei pressi del lab vaccinale e così via. Quindi, insomma, secondo me questo clima, questo spirito anche di collaborazione, devo dire, anche con le opposizioni in commissione che si è creato su questi temi va portato avanti. Nell'interesse di tutti, perché, e poi mi avvio a conclusione, Presidente, come tutti sanno, chi mi segue, io sono molto attento ai temi della sostenibilità e credo molto nel servizio di trasporto pubblico non di linea, quindi nei taxi, come ulteriore incentivo a lasciare a casa l'automobile privata. Questo anche mi piace sempre sottolinearlo senza conflitti, perché talvolta in maniera amichevole vi trovo a discutere con i tassisti. Tra l'altro il taxi non è nemico del car sharing, non è nemico dell'autobus, non è nemico della bicicletta. Tutte le alternative alla mobilità privata concorrono insieme a creare quel ventaglio di alternative che consente poi al cittadino veramente di lasciare a casa l'automobile senza pensieri. Porto il mio piccolissimo esempio personale, io, diciamo, alla maggior parte degli spostamenti cerco di coprirli con il trasporto pubblico tradizionale, diciamo, tra virgolette, bus, metropolitane e così via, talvolta mi sposto in bicicletta. Quando vado di corsa o capita che l'autobus non passa o io semplicemente non voglio aspettare 10-15 minuti in fermata, mi capita di prendere il taxi piuttosto che il car sharing e piuttosto che il monopattino in condivisione. Dobbiamo essere tutti uniti, secondo me, nel creare quante più alternative possibili all'automobile privata. Poi, come dico sempre, una volta che lascio a casa la mia automobile, un giorno prenderò il taxi, un giorno prenderò il car sharing, ma sono comunque un potenziale cliente nuovo. E poi, anche qui, ripeto, a beneficio della collettività. Io l'ho citato anche nel mio ordine del giorno, sono degli studi che, tra l'altro, approfondì veramente all'inizio della mia esperienza in Consiglio Comunale. Un servizio di taxi efficiente è fondamentale, perché, ad esempio, in città come in Roma, molto spesso il 25-30% della congestione, secondo alcuni studi, il traffico è causato dalla ricerca del parcheggio. Chiaramente il taxi evita questo problema. Quindi, se un servizio di taxi è efficiente, è un beneficio per chi lavora, ma anche per chi vive la città. Quindi, ripeto, con questo spirito, ovviamente abbiamo lavorato a questo regolamento, con questo spirito, anche in questi anni in Commissione abbiamo ascoltato e cercato di portare avanti tante proposte. Forse non sarà stato sufficiente, non lo so, ma sicuramente l'attenzione e la determinazione non è assolutamente mai mancata. Ecco, grazie, grazie Presidente. Poi magari potrò ribadire altri concetti anche in sede di discussione degli ordini del giorno. Grazie.